De Vecchio, allora ieri avete chiuso il sottopasso dove qualche mese fa morì quella donna nel fango dopo il nubifraggio, perché è stata presa questa decisione? Ma la decisione non è nostra ma deriva da un provvedimento della magistratura che ha sì disposto il dissequestro di quell'impianto di sollevamento, delle pompe di sollevamento ma altre sì, congiuntamente con lo stesso provvedimento, ne ha diffidato l'utilizzo quindi l'assoluto distacco di quelle apparecchiature che dovrebbero sollevare e trasportare quell'acqua al di fuori di quella conca rappresentata dal sottopasso. Ieri avete provveduto a chiudere questo sottopasso ma avete fatto un programma per quanto riguarda il controllo di altri sottopassi che ci sono a Pescara e che potrebbero essere pericolosi un domani? Su tutti e quattro i sottopassi verranno installati a breve dei segnalatori, dei semafori collegati con dei sensori che all'inalzarsi del livello dell'acqua in maniera eccessiva impediscono immediatamente, danno il segnale di stop quindi un intervento immediato, tecnico che precede poi quello manuale della posizione di transenne e quant'altro. Lo stesso sistema si sta installando adesso sulle golene, sull'area golenale riva nord. Anche lì i lavori sono già in corso, sono previsti dei semafori a un capo e l'altro della strada collegati a dei sensori che rilevano il livello del fiume e più ci sono delle telecamere che in aggiunta segnalano l'attivazione di tutti questi sistemi cioè il controllo continuo e costante che è collegato con la centrale operativa della Polizia Municipale. Speriamo di fare tutto in fretta e per bene ma speriamo anche di non doverli mai utilizzare.